Variazioni Nero è un progetto che nasce a Locarno nel 2007 e prende atto di un problema di cui agli incontri si è molto dibattuto, cioè quello di una coproduzione in reciprocità tra Italia e Svizzera. Molto spesso l'Italia cerca la Svizzera ma non da reciprocità. Noi abbiamo preso atto di questo problema e abbiamo cercato di creare un laboratorio permanente di produzione e creazione cinematografica dedicato ai giovani, quindi con un aspetto formativo e produttivo. Questo progetto si costituisce nell'elaborazione di un bando pubblico per la selezione di due storie di ambito noir che verranno esaminate e vagliate da una commissione editoriale che accompagnerà questi due giovani autori, uno dell'Italia e uno svizzero, a cercare delle concrete possibilità di mercato e un'immissione nel mercato.